Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TV. Diamo uno sguardo insieme a quali sono le notizie principali di oggi. Incidente mortale nel pomeriggio in via San Martino-Monterabate, in uno scontro con un'auto perde la vita un motociclista di 24 anni. Accoltellamento in piazza Cavour a Rimini, 39enne ferito all'addome e si trascina fino alla stazione prima di essere soccorso dal 118, forse un regolamento di conti per droga. Rimini e situazioni di degrado, all'anagrafe si accede fra le erbacce, alla nuova questura partita la bonifica di Antea. La Notte Rosa 2015 si presenta a Milano, De Gregorio, Dirgec, De Andrè e Giussi Ferreri, i cantanti dell'edizione del decennale. Apriamo questo telegiornale con la cronaca. Infatti c'è stato purtroppo un incidente mortale nel pomeriggio a Rimini in via Monte Labate, nell'omonima frazione all'altezza dell'incrocio con via Panoramica. Poco prima delle 16 un motociclista, un 24enne di Coriano, del quale non sono state ancora diffuse le generalità, è deceduto a seguito del terribile impatto tra la sua Ducati Monster ed una Mini Cooper. Il casco è stato sbalzato, l'auto ha perso una ruota nell'impatto. Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno cercato sempre di rianimare sul posto il giovane. Sul posto per i rilievi e per chiarire la dinamica dell'incidente anche la polizia municipale di Rimini. Un'aggressione nelle prime ore del mattino in centro storico nel riminese, nel comune di Rimini. Un 39enne è stato colpito all'addome con un coltello e si è trascinato fino al piazzale della stazione, dove poi ha chiesto soccorso. Indaga la polizia. Non è in pericolo di vita il 39enne italiano, colpito da una coltellata questa mattina, poco prima dell'alba, in piazza Cavour, è poi trascinato, si ferito, fino in piazzale Cesare Battissi davanti alla stazione di Rimini. Secondo la ricostruzione fornita ai sanitari del 118 dall'uomo, già noto alle forze dell'ordine per vicende di violenza sessuale e ricettazione, a seguito di un diverbio con alcuni stranieri in piazza Cavour, avrebbe ricevuto una coltellata al torace che gli avrebbe procurato poi una ferita lacero contusa. Trasportato all'ospedale infermi col codice di massima gravità, i sanitari gli hanno presto escluso complicazioni. Sul posto, su segnalazione del 118, sono intervenuti i poliziotti delle volanti e della scientifica. La squadra mobile sta verificando la versione del ferito ed esaminando le immagini della video sorveglianza del centro storico e della stazione. Ci sarebbero infatti alcune discrasie da verificare, tra le ipotesi anche quella di un regolamento di conti per vicende legate allo spaccio. Ancora cronaca, droga, prostituzione, armi. È scattata questa mattina una maxioperazione sul litorale romagnolo che ha visto impegnati 80 carabinieri del comando provinciale di Rimini e Forlicesena, Foggia, Ravenna, Piacenza, ma anche l'Interpol. Coinvolti i soggetti albanesi, rumeni ed italiani. I provvedimenti eseguiti sono stati 14 in contemporanea tra Italia ed Albania, con 9 arresti e 5 divieti di dimora. I reati contestati sono traffico di droga e prostituzione, c'è anche un sequestro di armi, ma maggiori particolari saranno diffusi in una conferenza stampa in programma per la mattinata di sabato. La Guardia di Finanza di Rimini ha perquisito la redazione riminese della Voce di Romagna su delega della Procura nell'ambito dell'inchiesta che vede Gianni Celli, fino a qualche settimana fa, amministratore e presidente della società editrice, sotto indagine per truffa aggravata ai danni dello Stato. Nel mirino delle fiamme gialle i 20 milioni di contributi all'editoria percepiti dal quotidiano, ma che sarebbero stati stornati ad altre società. Questa mattina nel carcere di Rimini un ispettore della Polizia Penitenziaria ed alcuni agenti sono stati aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente da un detenuto straniero. Quando gli agenti sono accorsi nella cella del detenuto, attirati dalle sue grida, sono stati colpiti con un pezzo di porta che l'uomo aveva nel frattempo scardinato. All'ispettore è stato tirato addosso anche un televisore. Ha riportato varie escoriazioni e lesioni con sette giorni di prognosi. Curato in ospedale anche un agente. Cambiamo adesso argomento. Questa mattina Antea ha dato il via alle operazioni di sfalcio, erba e di bonifica delle acque stagnanti accumulate nel piazzale, nei locali interrati dell'edificio di via Ugo Bassi, per ospitare la nuova sede della Questura, ma mai utilizzato. Ambiente ideale nel suo stato di abbandono per il proliferare della zanzara tigre. Attualmente è in fase di organizzazione l'intero svuotamento delle acque con l'utilizzo di idrovore nei prossimi giorni. A seguire le operazioni questa mattina c'erano personale della Polizia Municipale e il curatore della dama Guerrino Mosconi. Vi avevamo già riferito nei giorni scorsi dei recenti lavori di pulizia e messa in sicurezza interna dei locali da parte dell'associazione sportiva Guerrieri per Gioco che ha ottenuto dalla proprietà dello stabile l'autorizzazione ad usarlo per sfide di soft air. E restiamo in qualche modo in tema, anche se ci spostiamo più verso il centro storico, erbacce e sporcizia per arrivare all'ufficio anagrafe di Rimini. Siamo andati a riprendere l'area dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in proposito. Vediamo. Una lunga rampa con la pavimentazione visibilmente dissestata, vasche senza acqua da anni, pioggia a parte, e infestate di piante rampicanti. Lo scenario in questione non è quello di una qualche colonia abbandonata in zona mare, ma quello del complesso che ospita l'ufficio anagrafe del comune di Rimini, in via Marzabotto. Nel complesso ci sono anche molti esercizi commerciali ed un supermercato. Se non proprio degrado urbano, sicuramente non un bel colpo d'occhio per le decine e decine di riminesi che ogni giorno frequentano l'area. Area che necessiterebbe di manutenzione urgente. Svariate le segnalazioni in proposito, arrivate anche sui social network. I residenti del vicino Pep, tempo fa, avevano chiesto anche di ripristinare la fontana, ma senza esito. Andiamo adesso a Riccione. Una settantina di cittadini, oltre a tutte le persone di passaggio, che hanno poi deciso di fermarsi, hanno partecipato alla cena promossa dal comitato Noti RC e col sostegno di noi riccionesi con una tavolata in strada, in via Rimini, all'angolo con via Piacenza. Dopo il funerale dei Pini, di due settimane fa, si è scelto un momento conviviale per continuare la protesta contro l'opera e contro la gestione dei cantieri da parte di Agenzia Mobilità. Dai promotori arriva anche un ringraziamento ad un anonimo benefattore che avrebbe consegnato una somma importante a favore della lotta contro il TRC. Per il decimo anniversario, la Notte Rosa, in programma il 3 luglio, ma con eventi per tutto il fine settimana, si allarga anche al litorale marchigiano. Questa mattina la presentazione a Milano, a Rimini si regala un nome storico della musica italiana. Vediamo. Il clou della Decima Notte Rosa, venerdì 3 luglio, con Francesco De Gregori in piazzale Fellini a Rimini. E sempre a Rimini, il giorno dopo, Idir Jack, Cristiano Di Andrè, e giovedì inoltre ci sarà Paola Turci per percuotere la mente. A Riccione, Giusi Ferreri, Chiara, Elidi Ferraresi, a Misano, Deborah Iurato e Antonella Lococo, e poi il sabato sera il Carnevale Rosa, a Cattolica, la Paolo Belli Big Band. Per i bambini, il sabato a Bellaria, Carolina Benvenga di Rayoio e Aidi. A Bellaria inoltre si scierà sulla spiaggia con i campioni delle evoluzioni, Tullio d'Episcopo e la Gnassi Band a San Mauro Mare. A Gatteo, il 4 luglio, la Notte del Liscio. Alla mezzanotte del venerdì, come di consueto, su tutto il litorale lo spettacolo dei fuochi d'artificio rosa, un litorale che quest'anno si allunga. Presente oggi a Milano anche il sindaco di Pesaro, che debutta nel cartellone della manifestazione con Luca Zingaretti, che leggerà la sirena dall'Ighia di Tomasi di Lampedusa. Novità di quest'anno è infatti il coinvolgimento delle Marche. A Gabice, in programma Rosa Gabice tra favola e fantasia. A Gradara ci saranno i Carmina Burana, a Senigallia Luca Barbarossa e la Social Band. E a questo, come ogni anno, si aggiungono altre decine di eventi promossi dai singoli comitati turistici e operatori, tema di quest'anno lo slogan Unpossible. E siamo adesso allo sport. È stata infatti presentata questa mattina l'edizione 2015 di Calcio d'Estate. Quattro serate di premiazione Calcio Mercato alla ristorante Frontemare e su Icaro TV. Torna puntuale con l'inizio di giugno l'appuntamento con Calcio d'Estate, la trasmissione di Icaro Sport dedicata alla premiazione di società, tecnici, giocatori e settori giovanili che si sono messi in evidenza nella stagione appena conclusa e al mercatino romagnolo marchigiano del calciatore dilettante. Questa mattina la presentazione, nella cornice della terrazza sulla spiaggia del ristorante Frontemare a Rivazzura di Rimini, location delle quattro serate. Si parte martedì 9 giugno con la premiazione di società e allenatori. Il 16 saliranno sul palco le due facce della stessa medaglia. Chi di mestiere il gol lo deve realizzare e chi invece è chiamato ad evitarlo. Bomber e portieri. Il 23 giugno, serata dedicata ai settori giovanili. Chiusura il 30 con top player e under delle prime squadre. Le serate saranno trasmesse su Icaro TV Canale 91 il mercoledì alle 21.10. Noi contattiamo ovviamente le società e le invitiamo a venire a riterare i premi ma abbiamo anche parecchie società che ci contattano e che ci chiedono quando ci sarà calcio d'estate per poter partecipare. Direi che questa è una bella cosa perché la dice lunga sul fatto che calcio d'estate sia diventato un po' per quanto riguarda questo tipo di trasmissioni davvero il vero punto di riferimento, ma credo lo sia ormai già da diversi anni per quanto riguarda il nostro territorio del calcio estivo. E noi siamo arrivati in chiusura, come al solito vi lascio al meteo. Buon proseguimento di serata. Buon proseguimento di serata.